Il diritto alla salute è un diritto universale. La salute non si paga. Dobbiamo interrompere questa spinta verso la privatizzazione della sanità. Dobbiamo andare verso la sanità pubblica. E per questo dobbiamo aderire a quella che è la modifica dell'articolo 117 della Costituzione che Cittadinanza Attiva porta avanti. Per quanto riguarda quello che è importante e urgente fare per la sanità, innanzitutto diminuire il più possibile liste di attesa, abolire il super ticket sanitario e ridurre i ticket sanitari in maniera tale che andare dai privati costa di più che andare dai pubblici. Poi dobbiamo fare un piano di assunzione di almeno 40.000 medici e operatori sanitari per i prossimi 5 anni, formare i medici di famiglia, fare sì che le guardie mediche siano sicure e che siano meglio organizzate. Dobbiamo far sì che i farmaci, quelli generici, possano essere maggiormente distribuiti e pubblicizzati. Insomma, il costo della sanità deve senz'altro diminuire. E noi crediamo molto in questa iniziativa di Cittadinanza Attiva e la appoggiamo in tutto e per tutti.